Il Tribunale della Spezia sta valutando la richiesta di estradizione ma se si arrivasse al processo molto probabilmente verrebbe celebrato con l'imputato in contumacia. È tornato nel suo paese evitando così l'arresto il militare egiziano accusato di tentata violenza sessuale. La vicenda avvenuta nei giorni scorsi alla Spezia riaccende le polemiche sui rapporti tra il governo italiano e quello egiziano dopo i casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki e quello più recente legato alla vendita da parte del governo italiano di due fregate alla marina egiziana. E anche a livello locale si registrano la presa di posizione del sindaco e della Lega che polemizza con rifondazione comunista. Ma torniamo ai fatti. Giorni fa un marinaio egiziano alla Spezia in attesa della consegna di una delle due fregate Frem costruite al Mugiano avrebbe tentato di usare violenza ai danni di una ragazza all'interno di un solarium della città. Il militare raggiunto ed identificato dagli investigatori a inizio aprile dopo la denuncia della donna si è reso però irreperibile ai militari dell'arma che gli stavano notificando un ordine di custodia cautelare agli arresti domiciliari chiesti e ottenuto dal sostituto procuratore del tribunale della Spezia. Il militare infatti aveva già abbandonato il paese richiamato in Egitto secondo quanto appurato dagli inquirenti sulla base delle dichiarazioni di alcuni commilitoni. Il caso rappassa al tribunale che come detto valuterà un'eventuale erogatoria ma nel frattempo la politica si accende. Da prima con la fondo del deputato di sinistra italiana Nicola Fratoianni che con un'interrogazione parlamentare ai ministri Lamorgese, Cartabia e Guerini chiede cosa sia davvero accaduto e cosa intendano fare. Oggi è invece la volta del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchine che si appella al governo e in particolare al Ministero degli Esteri augurandosi che lo stesso interloquisca affattivamente con l'Egitto per far luce su questa deprecavile vicenda. Prima di accusare informatevi meglio è la stoccata polemica rivolta dalla Lega nei confronti di rifondazione comunista Rea Perlorella Cozzani, consigliere comunale della Lega, di aver tirato in ballo a sproposito la sottosegretaria alla difesa Stefania Pucciarelli. Di certo è che il caso è montato mediaticamente per via delle tensioni in atto tra Italia e Egitto per le vicende di Giulio Reggiani e Patrick Zacchi ma, come sottolinea amaramente Amnesty International, ciò non ha impedito la vendita delle navi italiane al governo di Al-Sisi